A Pentecoste, lo Spirito Santo si manifesta come fuoco. La fiamma dello Spirito Santo arde, ma non brucia, e perciò deve consumare qualcosa nell'uomo. Le scorie che lo corrompono e lo ostacolano nelle sue relazioni con Dio e con il prossimo. Questo effetto del fuoco divino, però, ci spaventa. Abbiamo paura di essere scottati. Preferiremo rimanere così come siamo. Vieni, Spirito Santo, accendi noi il fuoco del tuo amore. Questa è una preghiera audace, con la quale chiediamo di essere toccati dalla fiamma di Dio. Ma sappiamo che questa fiamma, e solo essa, ha il potere di salvarci. Abbiamo bisogno del fuoco dello Spirito Santo, perché solo l'amore redime.